ragazzi a qualcuno video in questo video ti faccio vedere come realizzare una torta di quelle fredde con l'utilizzo del preparato per torte in questo caso è della marca nonna elde ma ce ne sono molto simili anche della cameo è una torta senza cottura lo yogurt molto simile alla cheesecake questa qui è la prima volta che la realizzavo è davvero semplice perché comunque ci sono tutti scritti passaggi molto dettagliatamente allora per creare questa torta bisogna aggiungere uno yogurt di qualsiasi tipo di qualsiasi gusto servono tre vasetti cioè 365 grammi di yogurt bisogna aggiungere poi il burro e cioè 50 grammi poi vi servirà un frullatore uno sbattitore elettrico per mescolare i composti e poi il frigorifero ovviamente mentre al suo interno troviamo due composti quello per creare la base della torta e quello per creare la crema della torta e poi anche lo stampo troviamo schiccio tutto molto dettagliatamente nel rete della scatola sia perché ha il composto di base che quello della crema vi faccio vedere anche gli ingredienti magari possono essere utili a qualcuno adesso andiamo subito a costruire insieme lo stampo della torta devo dire che ho avuto alcune difficoltà perché non sapevo se dovevo aprirlo subito perché avevo paura di strapparlo e di romperlo quindi nonostante le istruzioni ho avuto qualche difficoltà come vedete per aprire il primo pezzo fa molta fatica quindi pensavo proprio che non andava diviso invece era proprio quel modo lì che andava tirato per bene una volta completamente aperta la scatola si capisce molto bene insomma com'è che va costruito e come yogurt sono da scegliere uno yogurt neutro perché voglio andare a fare appunto una torta molto simile alla cheesecake quindi neutra e sopra andrò a mettere dei frutti di bosco ma se scegliete uno yogurt direttamente a un gusto la torta avrà quel gusto lì insomma vado a mettere 50 grammi di burro in un pentolino che vado a sciogliere a fiamma media ma potete farlo anche nel microonde dopodiché vado a inserire all'interno il composto che è messo nella confezione argentata dove sopra c'è scritto biscotto lo vado a inserire tanto all'interno del pentolino e mescolo bene una volta amalgamato tanto il burro al biscotto vado a metterlo nel mio stampo e lo appiattisco perfettamente e dopodiché lo metto in frigo passiamo alla preparazione dell'altro composto vado a mettere lo yogurt in un recipiente a cui vado ad aggiungere l'altro composto contenuto nella busta bianca e con l'aiuto delle fruste elettriche comincio a amalgamare la polvere e lo yogurt per 3-4 minuti alla massima velocità come riportato sulla confezione adesso tiro fuori dal frigo la mia base della torta e vado a mettere sopra anche quest'altro composto cercando di liberlarla bene e faccio sopra un decoro con la internet e metto in frigorifero per minimo due ore come vi ho detto io sopra voglio andare a mettere una salsina di frutti di bosco quindi vado a prendere questi frutti di bosco congelati li metto in un recipiente metto due cucchiai di zucchero e faccio sciogliere tanti i frutti di bosco mentre si sciolgono si crea questo sughetto davvero buonissimo metto anche questi in un recipiente e metto in frigorifero trascorso il tempo necessario tolgo dal frigo la torta e vado a rimuovere la parte laterale dello stampo che si toglierà senza problemi vi faccio vedere adesso la parte laterale della torta come vedete c'è un bello un bel fondo che però non è molto duro è molto molto friabile e la parte sopra della crema appunto che si è ben solidificata avevo assaggiato questa torta fatta da mia cucina e lei aveva utilizzato uno yogurt alla fragola e devo dire che era davvero molto stopposo non mi è piaciuto per niente mentre in questo caso quello yogurt bianco è davvero fresco e appunto mettendo sopra i frutti di bosco comunque c'è un po di sapore non si sente neanche troppo il burro della base cosa che mi diventa davvero tanto invece è davvero buonissima infatti lo riprenderò sicuramente guarnizzo con tanti frutti di bosco e con la bella salsina che si sta spendendo per tutta quanta la torta questa qui è il mio risultato finale fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete provato questo tipo di torta qui anche con il preparato della camera perché so che comunque è molto simile io vi mando un grosso bacio al prossimo video ciao ciao